del rettilineo ma un po' meno in uscita di curva, mentre vediamo qui un tentativo di sorpasso del numero 92 Bressan e Calado, compagni di squadra nel team Tony Kart e tra l'altro Calado ha perso ben due posizioni dato che un pilota del team Cosmic si è inserito tra loro due